artosostra il silenzio l'indizio che smaschera questo membro della setta lo troveremo durante proprio le prime missioni del dlc eredità della prima lama capitolo 3 intitolato stirpe all'interno di questo indizio troveremo scritto di indagare nella grotta di ceadas come vedrete poi nel video che seguirà questa breve introduzione una volta raggiunto questo luogo ci verrà svelata proprio il membro e la posizione esatta di quest'ultimo detto ciò ragazzi mi lascia il video buona visione e 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 lo scopo dell'ordine portare ordine il mio a eliminare gli effetti collaterali e 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